Il treno regionale, 5701, di Trenitalia, proveniente da Bassano del Grappa, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 5 e 46, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Piombino Dese, Noale Scorzè, Maerne di Martellago, Venezia Mestre. Il treno regionale, 11072, di Trenitalia, proveniente da Padova, è diretto a Belluno, delle ore 5 e 58, e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Levada. Il treno regionale, 5703, di Trenitalia, delle ore 6 e 04, per Venezia Santa Lucia, è in partenza dal binario 6. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5660, di Trenitalia, proveniente da Treviso Centrale, è diretto a Vicenza, delle ore 6 e 07, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5700, di Trenitalia, delle ore 6 e 26, proveniente da Venezia Santa Lucia, è in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 11073, di Trenitalia, proveniente da Belluno, è diretto a Padova, delle ore 6 e 32, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Campo San Piero. Il treno regionale, 5827, di Trenitalia, proveniente da Treviso Centrale, è diretto a Padova, delle ore 6 e 39, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5705, di Trenitalia, proveniente da Bassano del Grappa, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 6 e 46, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Piombino Dese, Noale Scorzae, Maerne di Martellago, Venezia Mestre. Il treno regionale, 5702, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Bassano del Grappa, delle ore 6 e 46, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5661, di Trenitalia, proveniente da Vicenza, è diretto a Treviso Centrale, delle ore 6 e 55, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 11074, di Trenitalia, proveniente da Padova, è diretto a Belluno, delle ore 6 e 58, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Levada. Allontanarsi dalla linea gialla.